Buonasera, vi presento i nuovi adottanti neo-mami, neo-sorelli dell'ottava e volevo chiedere una cosa come ci si sente una persona che ieri ha scoperto la realtà spagnola e oggi sta qua nell'aeroporto e tiene vicino una creatura che tre ore fa è partita dal protettore del Madrid Beh, è una cosa bellissima, ero pronta e forse era pronta anche lei nella nostra piccola aria e quindi siamo contentissime di portarla a casa dove c'è il fratello Deodoro che l'aspetta Eccola, ce l'ha pure fratellino, aspetta un attimo Vi bandiamo tanti tantissimi saluti ringraziamo tantissimo la nostra protettora ringraziamo tantissimo i nostri amici simpatici e tanti i nostri adottanti Donatella, vieni qua un attimo che sta sempre in prima fila è un'altra principessa che sta sempre in prima fila e ti porta i nostri principessini qua cani non hanno nazionalità, amore non ha i confini Vieni qua, vieni qua, vieni qua vieni qua, vieni qua